E' finita Napoli-Bologna e finisce 3-2, vinciamo ma soffriamo ma come è possibile che dobbiamo sempre soffrire con le squadre piccole? Ma chi me lo spiega? Beret ma cosa cazzo mi hai combinato Beret? Mamma mia Beret c'è proprio regalato il secondo gollo al Bologna però Beret Hai fatto lo stesso errore della partita che incontro l'Empoli dove abbiamo perso lo scudetto Beret, Beret non devi fare più questi cazzo di errori Tu adesso sei il nostro primo portiere, Beret tu devi, tu devi mio caro Beret imparare a prendere la palla e non sempre respingerla Fai come facevo Spina, Spina mamma mia era una gioia tra i pali Ma la prossima volta perché mai esiste pure un santo salvatore Sirigu? Se no che cazzo ce lo siamo presi a fare Lo so che è un anno di contratto e l'abbiamo preso come secondo portiere per aiutare Beret Ma Sirigu ha molta esperienza, Beret è ancora un ragazzo e deve imparare cosa sono le... Deve imparare soprattutto le sue responsabilità Però Beret, una partita non possiamo soffrire così Però sto Tiago Motta pure quando viene con... gioca contro di noi Vare Gesù Cristo Stavamo per risuscitare Bologna che nell'ottima partita Ha fatto schifo Da quando si hanno esonerato Stignisa Mialovic E Tiago Motta ovviamente Contro di noi deve fare... deve far vedere che sto Bologna è risuscitato Va a segnare il gol dell'1-0 Apre le danze, Zirce... mamma mia Zirce ma pareva avere Cristiano Ronaldo ai tempi d'oro Segna il suo primo gol in Serie A dopo dopo che il Pestino lo parma Proprio che stava a schifo O durante il periodo Bayern Monaco Breve periodo con... quando c'era Flick Gli schifo usavano proprio Facevo solo a riserva il Lewandowski E ovviamente Zirce va a segnare il primo gol contro di noi Poi ovviamente in ultimi minuti prima della fine del primo tempo pareggia Wangesus ha calpato il calcio d'angolo Wangesus ci arriva col suo piede Grandissimo Wangesus pareggia Pareggia i conti Poi ovviamente il secondo tempo si finisce 1-1 E poi ovviamente va a segnare il gol del 2-1 Irving Lozano Il Ciuqui Segna il gol del 2-1 Poi va a segnare il gol della parità E ovviamente con la papera di Meret Che ci deve sempre stare le papere di Meret Va a segnare il Gabbiano Musabarro E il Barro? Ovviamente va a segnare... Usciamo pure il Barro dalle ceneri Poi va a segnare il gol del 3-2 Vittor Simen Che ci salve il culo con questo grandissimo gol che ha fatto Scavalcando su Skorupski Zelicchi si è mangiato una traversa Mamma mia Zelu Cosa ti sei andato a mangiare? E con questo gol di Zelicchi la partita era conclusa Ma gli ultimi minuti sono stati di infarto Il Bologna mamma mia Sto facendo tutto di più per pareggiare Ma alla fine è stato 4 in un recupero Spare Zelicchi e Napoli che è fornuto Finalmente era finito Il Napoli finalmente porta la decima vittoria consecutiva Superando l'Ecoldor Real Madrid E quindi Questa decima vittoria è proprio la sua offerta E quindi si è fatto a tre punti importanti In teoria 26 punti L'Atalanta 24 L'Inter invece con il settimo posto E Milan terzo E ancora per il momento non vediamo ancora che si Infatti la prossima partita del Napoli sarà all'Olimpico La prossima settimana contro la Roma E quindi la Roma sarà un vero test La Roma di Mourinho scendere in campo Proprio per suonarci di santa ragione Già la Roma non so cosa farà il lunedì Penso che giocherà il lunedì la Roma Quindi non so cosa farà Quindi noi dobbiamo riuscire con il cortello tra i denti all'Olimpico E far vedere Noi Noi ci siamo Noi vogliamo questo scudetto Noi vogliamo Proviamo Provare A vincere qualcosa Però questa prestazione non mi è piaciuta Però una vittoria Ma sofferta Dobbiamo imparare a soffrire di meno E contro le piccole è sempre la stessa storia Ormai ce lo siamo imparati a memoria E con questo vi finisce qui Quindi posso traccionare tutto Noi ci siamo passati a vedere Quindi è una realtà bella Allora 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 Allora